Buongiorno, ben trovati su canale 81 Lazio, un nuovo appuntamento con l'informazione e le notizie che arrivano dal territorio della regione. Partiamo subito dalla cronaca dove c'è stato un altro investimento mortale a Roma, questa volta vittima un uomo di 40 anni che è stato investito da un Audi A3. L'impatto fatale è avvenuto intorno alle 2.30 di ieri sera all'altezza del Lungotevere Maresciallo Diaz, poco dopo il ponte Duca d'Aosta. Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato e il 118 con un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, a quanto pare uno straniero, è morto sul colpo. L'Audi è stata sequestrata come da prassi dagli agenti della polizia locale che indagano per ricostruire la dinamica dei fatti. Quel tratto di strada illuminato sarebbe sprovvisto di strisce pedonali. E prendevano di mira le abitazioni in cui facevano raid per compiere i loro furti durante le sagre di paese che tradizionalmente si tengono d'estate, certi dell'assenza dei proprietari. Secondo le indagini dei carabinieri della stazione di Cetona, coordinati dal comando della compagnia di Montepulciano, hanno denunciato tre uomini. La banda avrebbe ammesso a segno colpi anche nel Viterbese. Con gli indizi raccolti, i militari sono riusciti a risalire i tre uomini, tutti provenienti dall'agropontino, già arrestati a luglio dopo un furto a Fogliano della Chiana, in provincia di Arezzo, che ha fatto scaduire anche un inseguimento. Durante gli approfondimenti sono stati ricostruiti e ripercorsi tutti i movimenti della banda. E' emerso che prima dei colpi avrebbero eseguito sopralluoghi, a seguito dei quali, a calar della sera, avrebbero colpito approfittando del fatto che le abitazioni erano vuote, in quanto i proprietari si trovavano alla festa paesana di turno. I carabinieri del nucleo della Compagnia Operativa di Roma, di Roma Eur, hanno arrestato tre cittadini romani di 22, 23 e 25 anni, finiti ai domiciliari per rapina e lesioni personali gravi. Le indagini dei militari sono state coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conso e sono successiva la denuncia da parte di due giovani che raccontavano di aver subito un'aggressione e la rapina del telefono cellulare nella notte del 22 aprile 2022, in una nota discoteca in zona Ostiense, dove i tre indagati svolgevano mansione di addetti alla sicurezza. Parliamo ora del tema sgomberi a Roma. Le occupazioni di immobili non possono essere un fenomeno tollerato. Il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, accoglie l'input del premier, Giorgia Meloni, che nelle scorse settimane, dopo lo sgombero di alcuni appartamenti a San Basilio, ha annunciato il via alla guerra contro le occupazioni abusive. Frattasi ha ricordato che bisogna affrontare il fenomeno nel rispetto delle complesse esigenze delle persone in difficoltà. Nel mirino del piano sgomberi ci sarebbero 27 immobili, ma, spiega Frattasi, sappiamo che le occupazioni abusive a Roma sono diverse e centinaia, situazioni che riguardano interi edifici, ma anche alloggi singoli. Parliamo ora dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea Capitolina. Servizi essenziali per i cittadini, scuola, trasporti e ambiente sono i settori per i quali sono stati previsti investimenti nel bilancio di previsione 2023-2025, approvato ieri dall'Assemblea Capitolina, con 27 voti a favore, 10 contrari e un astenuto. Il bilancio fa fronte a una situazione complessiva rispetto allo scorso anno di minori risorse, pari a circa 350 milioni di euro, tra minori entrate e maggiori costi legati alla crisi energetica e all'inflazione. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso soddisfazione e ringraziamento per la collaborazione di tutti che hanno lavorato all'approvazione del bilancio. Abbiamo evitato tagli ai servizi, riuscendo invece a confermare e a rilanciare il livello complessivo dei servizi. Con un grande lavoro di squadra abbiamo migliorato il bilancio per una città più verde, più accessibile, più pulita e più inclusiva. Liste di attese infinite nel Lazio, lo afferma una ricerca di cittadinanza attiva, liste di attesa che costituiscono anche un deterrente per chi ha necessità di curarsi o di approfondire una situazione clinica e così una percentuale importante di pazienti rinuncia a visite e controlli, che siano di routine, programmati o mirati alla prevenzione, quanto emerge dal monitoraggio civico condotto da cittadinanza attiva su 534 cittadini della Regione. Oggi, a distanza di tre anni e dopo il Covid, chiediamo che la Regione imponga alle ASL e alle aziende ospedaliere pubbliche l'inserimento del 100% delle agende nel sistema Recap entro tre mesi e la proposta lanciata da Elio Rosati, segretario regionale di cittadinanza attiva. Concludiamo qui questa edizione con il Tg regionale, grazie ancora per l'attenzione e vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti, sempre su Canale 81.